Sempre nome, cognome, data di oggi per favore, prego. Palma Carmela, 14 aprile 2018. Posso? Sì, sì. Il primo testo che ho fatto, non posso dire di aver sentito molto, comunque molto rilassata, molto emozionata, tranquilla, speriamo in altre occasioni di poter raccontare di più. Comunque è stata un'esperienza bella e vi ringrazio. Si ha notato sensazioni particolari, ricordi? Sì, beh, ricordi sì, sensazione degli indorpidimenti, dei formicoli, più leggera. Beh, è già una bella cosa. In merito anche ai ricordi, magari provare a lavorare su quelle cose lì, perché sono proprio gli... I ricordi, ricordi praticamente cercato di ritornare nei momenti della mia vita più belli. Dandomi una certa serenità. Bene, quindi questa cosa si può fare costantemente, sempre, in qualsiasi momento, ci si può ritornare a quei momenti e riportare la gioia, l'amore, la serenità di quei momenti al momento presente. Speriamo di avere quella serenità, insomma, e quella, come dire, ottimismo. Sono una persona molto ottimista, spero sempre nel bene e adesso un po' i problemi mi hanno messo un po' giù. Comunque, la ringrazio a lei, buona giornata. Altrettanto, aspettate le dite.